Salve, buonasera a tutti. Salve, buonasera a tutti. Perché? Perché si devono solo dire cose negative, cose di una squadra che non è riuscita a entrare in partita, di una squadra che ha subito sia tecnicamente che fisicamente un avversario forte, decisamente forte, ma non ci può essere questa differenza di livello di gioco e di livello di fisicità. Anche se loro sono primi classifica e noi non siamo tra le prime posizioni. Questo è una prestazione negativa. Abbiamo cercato di mischiare un po' dall'inizio perché sapevamo che fisicamente eravamo in difficoltà, per cui abbiamo cercato di alternare uomo e zona. I primi 3-4 minuti siamo riusciti a limitare, poi è venuto fuori lo strapotere di Bologna e noi ci siamo purtroppo... non siamo riusciti a reagire nel modo adeguato. Domande per il corso? Mi chiedo se è spiegabile solo anche un momento fisico difficile che state vivendo o se a questo punto c'è anche qualcosa di più? Perché comunque la differenza è stata evidente? La condizione fisica sicuramente ha un suo valore... poi dopo... e questo lo sapevamo... e sapevamo perché abbiamo preparato una partita in modo tattico per cercare di limitare Bologna facendo anche parecchie zone... Però se mi dici che c'è qualcos'altro io... non lo so... sicuramente non siamo riusciti a reagire nel momento primo break e siamo riusciti a reagire. Siamo riusciti a reagire abbastanza bene all'inizio del terzo e quarto anche se il divario era veramente abissale e poi è bastato un errore difensivo per poi prendere due o tre canestri consecutivi che poi dopo hanno... hanno riportato la partita come era finito il secondo quarto. Alla fine quarto quarto ho cercato di risparmiare Michele, ho cercato di risparmiare anche Patricio... ho chiesto a Trevis se era in buone condizioni, mi ha detto sì, sto benissimo... è entrato, ho avuto distorsione alla caviglia... e la valutazione però non te lo so dire... mi fa male però... mi fa male... è stata una partita brutta... non più brutta non lo so... grazie a voi... grazie a voi... grazie a voi... grazie a voi... grazie a voi...